Il 2015 della città di Pineto lo possiamo definire di programmazione, come ha detto in conferenza stampa, perché? Programmazione perché abbiamo gettato le basi affinché il 2016 sia un anno dedicato alle opere, le azioni importanti e questo territorio si aspetta. Partiamo dalla sicurezza, quindi guardando al rischio idrogeologico, saranno oltre 3 milioni e mezzo di interventi sul nostro territorio, grazie alla provincia, grazie alla regione. Sicurezza perché parliamo della mobilità sul territorio, quindi se pensiamo alle piste ciclabili, un'opera è stata già appaltata in questi giorni, i lavori sono in corso, verso Borgo Santa Maria, continuerà invece nei primi mesi del 2016, avranno avvio le opere per il completamento del Bike to Coast, quindi il tracciato lungo tutta la costa fino ai confini di Silvi e di Roseto. Sicurezza anche perché abbiamo di recente installato sul territorio, su richieste ai cittadini, anche numerose telecamere. Nonostante difficoltà ha fatto uno sforzo in più per assegnare qualche risorsa in più alle famiglie bisognose. Pensiamo al social market, nei primi mesi del 2016 daremo corsa a questo ulteriore importante progetto di aiuto alle famiglie più bisognose. Pensiamo all'ambiente, sono oltre 10 anni e il comune di Pineto, ininterrottamente, riesce ad ottenere l'assegnazione della bandiera blu. Pensiamo al turismo, lo scorso anno abbiamo investito tanto nell'identificare il nostro territorio per alcuni eventi importanti, nell'ambito dello sport, che ringraziamo il Cerrano Outdoors e penso al meeting, o piuttosto allo sforzo fatto per ristaurare un rapporto e dialogo con il mondo degli alpini. In occasione della Dunata stiamo continuando a lavorare su questo senso, sulle iniziative sportive. Quest'anno sarà un anno ricco di appuntamenti sportivi, ma che hanno un significato soprattutto sociale, perché pensiamo che in febbraio, ad esempio, ospiteremo il ritiro della nazionale ciclismo paralimpica con la presenza di Zenardi all'interno della squadra, così come continueremo con il campionato nazionale di bocce per disabili, il campionato nazionale ANED dei trapiantati, fino a proseguire poi attraverso gli altri appuntamenti di nuoto, di calcio, fino alla Notte Bianca, che un po' va a coronare tutte le iniziative sportive dell'anno. Stiamo attivando importanti canali verso l'Europa, di dialogo anche con altri paesi, perché crediamo importante la risorsa dell'Europa come progettazione e anche come crescere del territorio, non solo dal punto di vista economico e finanziario.